Il governo vuole scaricare tutto sugli enti locali ed è una cosa sbagliata. Prima di sopprimere le province dovrebbe sopprimere le prefetture. Poi se si deve decidere una razionalizzazione, noi siamo disponibili, ma i confini non possono essere tracciati da Roma, deve essere il territorio a decidere in base a quelle che sono le esigenze specifiche, l'economia, la conformazione geografica.